Con il getto della prima fondazione entra nel vivo la costruzione del nuovo ponte di Genova e la Valtellina è impegnata con gli operai tecnici della Cossi Costruzioni, azienda fondata nel 1976, realtà che vantano lunga serie di opere realizzate in Italia e in Europa, tra questa e la tangenziale di Morbegno. Dai primi di aprire la quota di maggioranza della società è stata acquistata da Salini Impregilo. Ruolo chiave nella delicata trattativa che ha portato al rilancio di Cossi, quello svolto dalla Banca Popolare di Sondrio, che ha una quota del 18-25%. A pochi mesi dall'accordo, già una prima sfida di notevole livello. La costruzione del nuovo ponte sul Polcevera, opera la cui realizzazione, è stata affidata al Consorzio per Genova, joint venture fra Salini Impregilo e Fincantieri. Il gruppo Cossi dà lavoro a 170 dipendenti senza contarli indotto.